Musica Operazione della DIA a Napoli, confiscati 9 milioni di euro, imprenditori vicini al Clammisso. Busse nella Scarpata, chiesta condanna a 10 anni per i vertici di autostrade nell'incidente in Irpinia avvenuto nel luglio 2013, persero la vita 40 persone. Incidente frontale tra auto e camion, ferita una a 28enne nel violento impatto lungo la Fondo Valle del Sele. Due truffatori da Napoli raggirano 89 anni ad Avellino, si sono fatti consegnare 3.800 euro, li bloccano i carabinieri di Cagliazzo. Go Kart e regole stradali al Samodesto di Benevento, l'evento ACI, karting in piazza. Musica Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito. Apriamo con la pagina della cronaca a scacco al Clannamisso, eseguita una confisca a imprenditori ritenuti vicini alla cosca napoletana. Confiscati 9 milioni di euro, il centro operativo Dia di Napoli ha eseguito il provvedimento di confisca di beni e messo su proposta del direttore della Dia, dal Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, nei confronti dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Candurro, ritenuti esponenti di vertice del sodalizio del Clannamisso, storico gruppo camorristico capeggiato da Giuseppe Misso, radicato ed egemone nel quartiere sanità, che a partire dagli anni Ottanta e fino al 2000 ha determinato le strategie e gli assetti criminali di Napoli. Le indagini che hanno preso avvio dall'analisi di operazioni finanziarie sospette e che sono state comprovate anche dalle risultanze emerse da un arrogatorio internazionale con acquisizione di documentazione bancaria in istituti bancari elvetici, hanno confermato, come Vincenzo Candurro, detto Enzo Barbieri, in quanto titolare in passato di una barberia nel centro storico di Napoli, sia secondo le indagini diventato nel tempo il cassiere e uomo di fiducia del citato boss. C'è anche una condanna a suo carico per associazione di tipo mafioso, mentre il fratello Giuseppe si sia invece occupato, sempre per conto del Clannamisso, del reimpiego in attività economiche di denaro di provenienza illecita. L'operazione di oggi ha portato alla confisca di 17 unità immobiliari, 7 società di cui 3 con confisca dell'intero patrimonio aziendale, una rivendita di tabacchi e valori bollati nella provincia di Salerno, 8 auto-motoveicoli, 16 depositi bancari, di cui 2 nella Repubblica di San Marino, e 6 polizze assicurative per un valore di oltre 9 milioni di euro. Truffe assicurative commesse in sere. Gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di persone ritenute appartenenti ad un'associazione a delinquere che è risultata dedita a compiere raggiri nel settore. Le attività investigative, dirette dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di appurare l'esistenza di un gruppo che sarebbe stato impegnato sistematicamente ad architettare falsi incidenti stradali o ad alterare le effettive circostanze di quelli realmente accaduti per ottenere indebiti risarcimenti dalle compagnie assicurative. A fine settembre sempre la Torre Annunziata era partita un'operazione che aveva visto coinvolti tra gli altri tre giudici onorari, diversi avvocati e periti che avevano portato alla luce un sistema di corruzione legato all'attività degli uffici del giudice di pace della città vesuviana. Estradato il killer dell'imprenditore agricolo di Santa Maria Capovetere, Pasquale Guarino, l'ha ucciso con due colpi di pistola a 26 anni, l'omicidio dopo un tentativo di rapina. E' arrivato in Italia dopo essere stato estradato dall'Albania il 26enne Arjit Turscilla, ritenuto responsabile della tentata rapina dell'omicidio dell'imprenditore agricolo Pasquale Guarino, ucciso il 23 settembre 2015 con due colpi di pistola davanti ai propri dipendenti mentre era nel suo fondo agricolo di Santa Maria Capovetere dopo essere tornato dal mercato ortofrutticolo di Maddaloni. Turscilla è stato preso in custodia all'aeroporto di Fiumicino dagli agenti della Polaria e dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capovetere che gli hanno notificato l'ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura diretta da Maria Antonietta Troncone. Il 26enne albanese era stato arrestato il 9 marzo scorso in Albania nel distretto di Dibra dalla polizia locale che aveva eseguito un mandato di cattura internazionale. Dalle indagini sull'omicidio è emerso che ad agire fu una banda di malviventi albanesi alcuni dei quali non ancora individuati. I banditi furono preventivamente informati dell'arrivo di Guarino sul fondo agricolo con l'incasso della vendita della frutta. I membri della gang fecero così irruzione, armati e incappucciati. Intimarono ad una dipendente di Guarino che aveva i soldi, circa 3.000 euro, di consegnarli subito. Guarino reagì, tentò di difendere la ragazza e fu colpito due volte. I banditi non riuscirono a portarsi via i soldi ma priva di fuggire presero il cellulare di Guarino. Questi, ferito gravemente, morì poi in ospedale. Le indagini subito si indirizzarono su alcuni dipendenti. Gli inquirenti sequestrarono anche le immagini di telecamere piazzate in zona individuando così l'auto dei banditi che giungeva sul fondo agricolo poco dopo l'arrivo di Guarino. Determinanti anche le intercettazioni telefoniche. Nell'ottobre 2017 fu arrestato il basista del gruppo, il 34enne omonimo del 26enne, ritenuto il dipendente infedele che informò i banditi degli spostamenti di Guarino. È stato fermato durante un controllo nei pressi di San Salvatore Telesino con in atto un divieto di ritorno nel territorio comunale. Il puluri pregiudicato denunciato dagli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Teleseterme. L'uomo, 45 anni, con numerosi precedenti, è stato sottoposto a controllo mentre era a bordo della Fiat Brava nella quale viaggiava nei pressi di San Salvatore e nell'ambito di milati servizi predisposti dal questore Bellassai. A seguito di approfonditi accertamenti è emerso a carico dell'uomo un foglio di via obbligatorio dal comune di San Salvatore emesso nella 2017 dal questore di Benevento per la durata di due anni. Secondo quanto accertato, il 45enne è stato condotto presso il commissariato di pubblica sicurezza di Teleseterme ed è stato deferito in stato di libertà. Incidente in Irpini a scontro frontale tra un'auto e un camion ferita una ragazza di 28 anni, il violento impatto lungo la Fondovalle del Sele. Vediamo. Grave incidente stradale a Caposele al chilometro 21 più 500 della Fondovalle del Sele. Una Jeep Renegade condotta da un 28enne di Rocca San Felice si è scontrata frontalmente con un autocarro. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Montella, il 118, i Vigili del Fuoco, 118 che ha provveduto a trasportare la donna all'ospedale Sant'Angelo dei Lombardi e il camionista, sessantenne della provincia di Salerno, a quello di Olivetolo Citra. La strada statale 691 è stata chiusa alla circolazione fino a quando non è stata liberata dal tir che si è ribaltato di traverso. Sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Nei mesi estivi era accaduto un incidente simile sotto la galleria della stessa strada, poi subito illuminata, ma aveva infatti ritagliato attenzione da parte dell'opinione pubblica che lamentava da anni la poca manutenzione. Due truffatori di Napoli raggirano un'anziana di Avellino, si sono fatti consegnare 3.800 euro, li bloccano i truffatori, i carabinieri di Caiazzo. Sentiamo. Due truffatori napoletani, Rocco Bracale di 53 anni e Gennaro Puccinelli di 25 in trasferta ad Avellino, sono stati arrestati dai carabinieri poco dopo aver raggirato una 89enne pensionata invalida, da cui erano riusciti a farsi consegnare la somma di 3.800 euro. Sono stati i carabinieri della stazione di Caiazzo a pedinare i due sospetti truffatori fino ad Avellino, dove sono entrati in azione con le consuete modalità già accertate in analoghi precedenti episodi. Secondo quanto emerso dalle indagini, Puccinelli aveva convinto telefonicamente la vittima di essere il nipote e le aveva riferito di avere urgente bisogno di soldi da versare ad uno studio legale per concludere positivamente un'operazione in banca. A casa dell'anziana si è presentato così Bracale che si è fatto consegnare la somma in contanti. Il 53enne è stato bloccato poco dopo dai carabinieri mentre tentava di raggiungere il complice che lo stava attendendo a bordo di un'autovettura. Il denaro è stato poi riconsegnato alla vittima. Busenella Scarpata ha chiesto una condanna a 10 anni per i vertici di autostrade nell'incidente avvenuto a Monteforte Irpino. Lo ricordiamo, nel luglio 2013 persero la vita 40 persone. I dettagli. 10 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Questa è la condanna richiesta dal procuratore capo di Avellino Rosario Cantelmo per Giovanni Castellucci, attuale amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e altri 11 dirigenti dipendenti della società imputati nel processo per la strage del bus in cui il 28 luglio del 2013 persero la vita 40 persone precipitate dal viadotto Acqualonga della A16 Napolicanosa. Secondo la procura irpina, gli esponenti di autostrade sarebbero responsabili per la mancata manutenzione del viadotto le cui barriere cedettero sotto l'impatto del bus facendo precipitare il veicolo nella Scarpata sottostante. Le perizie depositate durante il processo la cui attendibilità è stata contestata dai legali della società hanno evidenziato la scarsa manutenzione delle barriere e dei tirafondi che se non fossero risultati usurati avrebbero derubricato al rango di grave incidente stradale quello che ha invece causato la morte di 40 persone. Il cedimento delle barriere è stata una concausa dell'incidente. L'accusa ha appuntato anzitutto l'indice nella prima parte della requisitoria svoltasi il 5 ottobre pure sulle cattive condizioni del bus immatricolato nel 1985 e con ben 800.000 chilometri percorsi non sottoposto a regolare revisione. Da qui la richiesta di condanna a 12 anni di reclusione per Gennaro Lametta, il titolare della Mondo Travel proprietario del bus che nell'incidente ha perso il fratello Ciro che era alla guida del mezzo. 9 anni per Antonietta Ceriola, dipendente della motorizzazione civile di Napoli e 6 anni per Vittorio Saulino, anche gli dipendenti della motorizzazione. Secondo la procura Lametta, accusato di concorso in omicidio, lesione e disastro colposo, è responsabile non soltanto delle pessime condizioni del bus immatricolato nell'85 con 800.000 chilometri percorsi, ma in primo luogo per non aver sottoposto l'automezzo a revisione. Se questo fosse avvenuto, ha sostenuto la pubblica accusa, l'automezzo non avrebbe ottenuto l'autorizzazione a circolare. I due funzionari della motorizzazione civile sono invece accusati di non aver assolto alle loro funzioni di controllo che avrebbero impedito la circolazione del bus. Le richieste di condanna appaiono a dir poco sconcertanti perché non fondate su alcun dato scientifico oggettivo e in contrasto con quanto emerso in dibattimento, lo afferma l'avvocato difensore di Autostrade. Il comandante del nono stormo di Grazianise, premiato in Belgio, si è distinto per il servizio prestato e per i risultati individuali raggiunti. Nei giorni scorsi il comandante del nono stormo di Grazianise, il colonnello pilota Nicola Lucivero, ha ricevuto presso la sede di Shape Supreme Headquarters e Live Power Europe, con sede a Mons, Belgio, il Souser Recognition Awards, riconoscimento attribuito a tutti coloro che si sono particolarmente distinti nel corso del loro mandato in ambito Nato. Questa la motivazione per il prestigioso riconoscimento. Il colonnello Lucivero si è distinto per l'eccezionale servizio reso alla Nato. I suoi sforzi, uniti ad una vasta esperienza, eccezionale disponibilità ed elevato senso di responsabilità, hanno contribuito profiguamente al successo e alla realizzazione di tutti i compiti assegnati. Il colonnello combina spiccate capacità analitiche con una leadership eccezionale che lo favorisce nel trovare sempre soluzioni eccellenti. La sua non comune dedizione, messa al servizio dell'Alleanza Atlantica, rende lustro a se stesso e alla nazione, egregiamente rappresentata con gratulazioni. Il Souser Recognition Awards nasce proprio quale volontà di esprimere il proprio compiacimento nei confronti del personale che è impiegato per la Nato nel Laco, che si è distinto per lo straordinario servizio prestato e per gli eccezionali risultati individuali raggiunti. La cerimonia si è conclusa con il ringraziamento del generale Scaparrotti al personale premiato unitamente alle rispettive famiglie. Go-kart e regole stradali, Samodesto di Benevento ha ospitato l'evento AC Karting in piazza. Vediamo. Karting in piazza, l'educazione stradale fuori dalle aule scolastiche, un'importante manifestazione che contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica in relazione alla tematica, partendo proprio dai bambini, per sperare in un futuro migliore. L'evento voluto dall'Automobile Club Italia, ACI in collaborazione con le Forze dell'Ordine e il Comune di Benevento, si è svolto a Rione Libertà e ha coinvolto le scuole del capologo Sernita. Ritengo che anche questa zona sia Benevento e quindi vada trattata come trattiamo le strade centrali. Seconda cosa, ogni volta che vengo qua, percepisco un'umanità particolare. La gente di questo rione, gente affettuosa, gente che vuole partecipare, gente che aiuta, gente che non ha soltanto la curiosità di vedere, ma vuole fare, vuole operare. Anzi, ritengo che questa gente ben sollecitata potrebbe dare moltissimo alla nostra collettività. Piazza Samodesto si è trasformata in un cardodromo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, ai piccoli piloti affiancati da un personale qualificato ed esperto è stato affidato un card elettrico omologato alla federazione con il quale muoversi in uno spazio appositamente allestito in totale sicurezza. Un progetto ricreativo ma fondamentale per motivare le nuove generazioni al rispetto delle norme del codice della strada. Non vogliamo lanciare nessun messaggio, noi vogliamo soltanto curare la cultura di una mobilità più responsabile partendo proprio dai bambini, nella consapevolezza che la cultura non è una cosa che si improvvisa, ma è una cosa che si costruisce giorno dopo giorno. Pertanto, cominciando a comunicare ai bambini le norme della sicurezza stradale, noi ne facciamo dei guidatori responsabili, degli utenti della strada molto responsabili che domani saranno una ricchezza per la società, perché meno incidenti, meno costi anche per la società. Giornata dell'educazione finanziaria, economia a scuola, fate il nostro gioco. La coinvolgente conferenza spettacolo sull'uso consapevole del denaro e la prevenzione del gioco d'azzardo presso la sala conferenza e Mario Liverini presso la Mangimi Liverini S.p.a. L'appuntamento giovedì 11 ottobre alle ore 9 parteciperanno gli studenti di otto scuole secondarie di secondo grado del Sannio e uno del Napoletano. Reparto TIN dell'ospedale di Nociara Inferiore senza personale e emergenza in corsia. Sentiamo i dettagli. La situazione del nido dell'ospedale Umberto I è talmente compromessa che si stanno cercando infermieri anche all'esterno del blocco materno-infantile. Il pensionamento e altri motivi improvvisi hanno fatto trovare scoperto il nido di Nociara Inferiore. Si è passati da tre unità a turno, per un totale di 15 persone, ad appena otto infermieri che due a turno riescono a malapena coprirne 4 su 5. Capita che a fine lavoro non ci sia il collega a dare il cambio. L'altro giorno, racconta Giovanni Mazzola della CISL, sono dovuto intervenire in direzione sanitaria perché una collega non poteva smontare dal turno di notte. Erano le 10 del mattino ed era ancora in servizio. Manca materialmente la persona per dare il cambio. La questione personale è diventata dunque irreversibile. Anche in pediatria c'è un'unità scoperta da due anni. Lo straordinario, dichiara Raimondo Polino dell'USB, non deve essere un fatto ordinario, non è più sostenibile. Nei giorni scorsi il personale della pediatria ha scritto una lettera alla direzione sanitaria con la quale ha comunicato che non si intende più sopperire alla carenza dell'unità con lo straordinario. Se non si trova una soluzione, continua Polino, anche la pediatria rischia di rimanere scoperta. Pure la terapia intensiva neonatale potrebbe perdere un infermiere. Il personale scarseggia ovunque. In nefrologia, per esempio, 7 unità coprono i 5 turni. Si compensa anche qui con lo straordinario stessa modalità in chirurgia d'urgenza. E le procedure di mobilità vanno avanti al rilento. A pesare sono in nulla a osta delle aziende di provenienza degli infermieri. La carenza riguarda tutti e quindi non sempre volentieri si dà il via libera ai trasferimenti. Arriva un'unità per volta e non è sufficiente. Le procedure sono lente, aggiunge Mazzola della Cisla. Nell'ultimo periodo è arrivata un'unità che è stata destinata all'emodinamica. Nel frattempo si attendono due pensionamenti al pronto soccorso. Un cane che si morde la coda. Il commissario Mario Iervolino aveva assicurato forze fresche da ottobre ma sembra che gli infermieri arrivati per mobilità abbiano scelto per ora gli ospedali a sud di Salerno e non quelli a nord di norma più bisognosi di braccia lavoro. Chiuderà la serata il concerto bandistico Città di Castelvenere presente col gruppo Banda Coro in Maciorette. Parteciperanno giovedì 11 ottobre alle ore 19 all'evento artistico-culturale Caruso Isbeck organizzato dall'associazione No Profit Parole e Musica a cornice suggestiva alla mostra d'Oltremare di Napoli. Il quinto convegno ecclesiale diocesano si è concluso con le attività di laboratorio che hanno dato il via alla collaborazione tra la diocesi di Sessa Orunca e l'ufficio comunicazioni sociali della CEI. Si è concluso il quinto convegno diocesano abitare i media per annunciare Cristo Signore trasfigurare il sociale svoltosi a Sessa Orunca l'8 e il 9 ottobre scorsi. Dopo la relazione del professor Piercesare Rivoltella su come abitare la cultura digitale si è passati alla seconda fase del convegno caratterizzata da attività laboratoriali. Quest'anno il convegno è stato promosso dall'ufficio per le comunicazioni sociali diocesano in collaborazione con l'ufficio nazionale della CEI. Due esperti hanno condotto i laboratori inaugurando un percorso di formazione che vedrà il nascere e il formarsi di animatori della comunicazione e della cultura. WebDoc e Cinema divengono così dei mezzi attraverso i quali è possibile annunciare con efficacia Cristo Signore. È stato il primo tassello di un percorso sperimentale che abbiamo deciso di fare su invito energico di Monsignor Piazza e quindi con l'ufficio nazionale per le comunicazioni sociali con Doniva Maffeis e nello specifico con la commissione nazionale valutazione film della CEI che è l'organo pastorale che si occupa del cinema e dell'audiovisivo con il presidente Massimo Giraldi abbiamo voluto metterci in gioco ricordando l'importanza strategica del cinema come strumento pastorale. Il cinema può diventare veramente una soglia di incontro con la comunità non solo nei ormai classici e consolidati percorsi cineforiali che sono preziosi e fanno vivere animale la sala della comunità ma anche utilizzare il cinema in chiave educational, in chiave didattica quindi accompagnare il lavoro che fanno i catechisti gli animatori, gli insegnanti di scuola, di religione e tutti coloro che vogliono usare il cinema veramente come una soglia come un'esperienza di incontro un'esperienza di dialogo. Mi ha sorpreso molto la partecipazione tantissimi giovani tante persone interessate a un laboratorio che si è concentrato soprattutto sullo web doc quindi una forma di linguaggio giornalistico un linguaggio giornalistico che è legato soprattutto alla produzione dei contenuti di qualità quindi siamo partiti da un aspetto molto importante che è quello del concetto della collaborazione partecipativa poi siamo passati a tutto ciò che è la cooperazione convergente dal punto di vista di multimedialità cioè i video, i testi, gli audio, le fotografie possono senza dubbio aiutare a raccontare a produrre quel filo narrativo di cui anche il professor Piercesare Rivoltella ha accennato all'apertura del convegno poi siamo passati a un'altra fase che è la fase della condivisione dell'interazione sui social e quindi questo ambiente che molto spesso può rappresentare un rischio invece lo abbiamo visto come una opportunità che può essere inserita in un percorso formativo o in un percorso di comunicazione proprio per costruire contenuti di qualità Siamo allo sport attraverso la storia l'arena è sempre stato un posto speciale parola di Carlo Ancellotti che approfittando della sosta di campionato è andato in visita negli scavi di Pompei ed oggi ha postato sul suo profilo Twitter una foto che lo ritrae nel sito archeologico con alle spalle l'anfiteatro romano prima di lui alcuni anni fa Raffaele Benitez era solito approfittare dei momenti liberi per visitare i luoghi più rappresentativi di Napoli e dintorni Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica ci è piaciuta tanto la loro forza offensiva è incredibile ma siamo riusciti a non farli calciare ma importa questo dice tutto lo ha affermato Marek Amsik dal ritiro della nazionale slovacca il capitano del Napoli ha parlato anche del deludente pareggio contro la Stella Rossa nella prima gara di Champions League della doppia sfida che attende gli azzurri contro il Paris Saint-Germain i francesi hanno ha detto una forza offensiva incredibile ma è inutile pensarci fin da ora sono concentrato sui prossimi impegni Serie B il Benevento è l'unica compagine in Serie B che è riuscita a mandare a segno ben 10 calciatori diversi un primato del tutto di rispetto soprattutto se si tiene presente che gli stregoni detengono la migliore media realizzativa dell'intera categoria in Italia soltanto una squadra ha fatto meglio anche se ha giocato ben due partite in più la Roma di Di Francesco tra i capitolini hanno gonfiato la rete 11 calciatori ed era questa l'ultima notizia ora vi lascio in compagnia delle presioni del tempo e con il resto della nostra programmazione grazie dell'attenzione arrivederci grazie a tutti ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it previsioni per giovedì 11 ottobre prosegue il maltempo su parte del nord e inoltre sulle isole maggiori mentre sul resto del paese sarà bel tempo ma analizziamo la situazione nel dettaglio cielo irregolarmente nuvoloso al nord ovest con temporali piuttosto frequenti e localmente anche intensi e non si escludono dei locali nubi fragi sulla Liguria sempre asciutto e soleggiato invece sui restanti settori al centro occasionali temporali sulla Sardegna orientale andrà decisamente meglio sulle regioni peninsulari con più sole salvo per innocui addensamenti sulle coste toscane e inoltre lungo l'Appennino al sud precipitazioni sparse ma frequenti sulla Sicilia bel tempo soleggiato invece altrove con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato ovunque i venti soffieranno con debole o moderata intensità da direzioni variabili ma in prevalenza dai quadranti meridionali temperature sostanzialmente stazionarie le minime infatti saranno comprese tra 9 e 20 gradi un po' su tutto il nostro paese per quanto riguarda invece le massime prevediamo fino a 24 gradi al nord fino a 25 gradi al centro e punte di 26 gradi infine al sud a l'inforzata Grazie a tutti.